Facciamo il prossimo video di calcetto Facciamo il prossimo video di calcetto Da mia nonna Vi presento la maglia di Raimel Rush E il gioco di Raimel Rush Eccolo qua Raimel Rush Vi presento la maglia Facciamo il gioco Vi faccio vedere E facciamo il video di calcetto Adesso Con il nuovo Valizio Taccagno Taggia Scrofuttare Taggia Scrofuttare Valizio Valizio Olizio in medicina vanno a finire tutti fino all'ultimo centesimo perché sei un bastardo tutti i bastardi come te e se tua madre lo vuoi sapere sei un bastardo tu manda la forca un pover'uomo che non ha fatto male a nessuno già ricercato in 15 secondi di questo stato il paledetto pacifico duco è stato a legge gli speroni gli speroni si dividono in due categorie qualcuno passa dalla porta e qualcun altro dalla finestra butta via la pistola e scatta la mia no ma vedi quell'ottello biondo passala su quel trap fissa bene la corda trap deve reggere il peso sul maiale monta su qui non spara le gambe non spara la corda spara le gambe non spara le gambe adios facciamo il nostro video palleggio 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 l'ho lisciato oppure il nostro video sta a 2 minuti e 47 e quindi può andare a finire è pure la zanzariera che fa il loro rumore palleggio 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 eh ragazzi ho dato un errore l'ho buttato giù adesso vi presento il gioco di Raim & Rush il gioco di Raim & Rush è la maglia di Raim & Rush grazie per il video di calcetto vi salutiamo oi grazie grazie